La zona P parcheggio, quindi la zona che vediamo qui adesso, si trasforma in zona V che dalla leggenda è indicata come aria per verde attrezzato e sport di progetto ma zona piastrellata verrà considerata come zona sport di progetto ma io non so sulle mattonelle che sport si possono fare, forse pattinaggio o curling, già le bocce andiamo in difficoltà Ora c'è una città e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà? La questione della chiesa nasce il 29 di dicembre dove apprendiamo la costruzione di questo mega edificio sul parco galiziano Questo sul è stato donato dai privati a Don Luigi Zocco, tutto il sul, tutto Sapevamo già da tempo che c'era un progetto inerente alla costruzione di un edificio di culto Perché Don Luigi non ci aveva proposto una chiesa, una mega chiesa ci aveva proposto la chiesa che doveva essere fatta in quell'angolo lì Abbiamo un attimo cercato di capire, di acquisire la documentazione farla studiare a qualche tecnico, perché noi tecnici non siamo e ci siamo resi conto che le dimensioni erano abnormi Dunque il progetto doveva essere fatto su quel poggio dentro i limiti di quella stagionata lì Vorremmo avere maggiori spiegazioni circa le volumetrie e le altezze Avremo muri di 8 metri e mezzo, muri di 7 metri e 76 Tutta questa zona dove comunque vedo diverse altezze naturalmente in correlazione con il declino della collina Questi signori che stanno facendo la dimostrazione è perché abitano là e dicono che ci tolgono la luce, ci tolgono il sole, ci tolgono il mare Io già non ce l'ho il mare, non lo vedo da casa mia Questa opera toglierà verde pubblico che a me non toglie niente L'attuale visuale della costiera rimane intatta Stanno facendo una causa proprio sbagliata La casa canonica dovrebbe arrivare fin qua giù La casa canonica qual è? Dal progetto sembrano 200 metri quadri Quanti figli hai? Noi qui ne abbiamo cresciuti tre In una casa di 100 metri quadri Perché la casa canonica non farla nella vecchia chiesa che verrà abbandonata? E quella come sarà utilizzata? Io voglio domandare a queste persone che stanno facendo questa logica Perché il prete è la chiesa La chiesa è nostra Una persona sola 200 metri quadri Cioè sta largo, largo, largo Tutto nasce non perché sia contro la chiesa istituzione Né contro i fedeli della zona Né anche contro il parroco Il problema è che qui ci sarà del cemento In uno spazio pubblico In uno spazio verde Uno dei pochi della zona Qua non fa un matrimone questa chiesa Perché? Perché è piccola Non fa un funerale decente Siamo anche per la costruzione della nuova chiesa Ma che sia ridimensionato il progetto Cioè serve una chiesa Non una cattedrale Diecimila persone Diecimila abitanti Non è necessario fare una chiesa Progetto secondo me da eliminare Perché di chiese ce ne sono tante Nei dintorni Inutile abbattere un parco Che alla fine la gente ci viene Sia quante messe fa Don Gaetano Per dividere la Otto Comunque Si può tentare di allargare quella che c'è Siamo contro la costruzione di una chiesa Che vada ad eliminare un parco L'unico parco Facciamo tutto verde Dove stanno le chiese In posto di stare ricevendo Giustamente Ci facciamo il verde E non so non so Perché continuano A costruire le case E non lasciano l'erba 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 E per cui penso che il parco È uno spazio pubblico E tutti hanno gli stessi diritti In questo parco Noi chiediamo semplicemente Il ridimensionamento del progetto E soprattutto Non venga a stravolgere il parco Chiediamo di poter parlare con il sindaco E speriamo che ci riceva Non lasciano l'erba Non lasciano l'erba Non lasciano l'erba Non lasciano l'erba, e no, e andiamo avanti così, chissà come si farà.